Aspetta Non l'ho visto Eh ragazzi questa qua è la seconda parte Si è bloccato un video Cioè dici Oh lino ragazzi Dove vai allora dunque Io metto la cala cala Uccidiamo quello lino No ho sbagliato Cosa? Invece di poterciare la multi Cos'hai fatto? Ho potenziato la E Va beh non fa niente Anch'io l'ultima volta La sparo l'urti La sparo Aspetta Cori 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 Aspetta ci sono ci sono Son vivo son vivo son vivo Sono ho detto sono vivo Ho detto sono morto Ma dai ho usato tutto Ma la lama dolce l'ho usato Eh T'ho detto le donne Vabbè ho fatto due kill Ho fatto due kill E ho fatto Ah io non dovevi fare le kill Ah vabbè Sono su Ma Ma non so Non ho capito bene come si gioca Ciove Mazza come ciòve Vuoi niente Sta a ciòve Ah ok mi piglio questo qua Eh me ne Mi un po' di pure te Aspetta che Mi combate Combate Niente Raga vi lascia voi gioco Mazza come ciòve Fra Fra Che buco sei Perché sono qua Sono ritornato in K2 e Reta 4 Eh che cosa sta Ma dai Fra Stiamo perdendo 2 a 5 Ho fatto io 2 kill Aspetta che mi sparo Vuoi iniziare a fare i culi Ce l'hai l'ulti Ma non ho mano Come non hai mano Ah C'è qualche posizione C'è penso io No no la cosa l'ho finita La D La D l'ho terminata adesso Ah lasciami un po' di più Sì Penso io ho il bot La sparo Sparo l'ultimo Ma come funziona questi ulti qua Ecco tu mi dai La devi lanciare Ah ma curo gli altri Sì Ah ok Uccidi sto bot Oh cacchio Cori 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 Non puoi chiamare gli altri bot Dai riusciamo a fare sta cacchio di torre Vattene 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 Ecco ok Recolgo Perché recolgo No 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 Non hai mano Sì Niente per niente Eh cosa faccio Uccido si Eh Dai corri Cori corri Oh la piglio la W Non ce l'ho No Quindi ho questo Io sono arrivato Abbiamo come a sesto Ok a che livello sei? A set Qui io Già a set Io adesso sono a set Oh cavolo Tant'è che sono arrivato Your mother bitch Oh cavolo Sono morto Sono morto Sono morto Tantissimo Sono morto Nooo Che coglione Vabbè 2-2 2 kill 2-2-2 Adesso arrivi Mi devo comprare un po' di dischi Cosa sono stati dischi Allora Oh che cos'è? Arrivo 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 Sei morto? Una è la tua istante Eh fra Stai a fagga Cioè ma io che non sono bravo a League of a LOL Ma nemmeno io sono bravissimo Però io Scusa ma su World of Tanks ho fatto schifo Ma qua sto a fa Vabbè Dai dopo ne rifacciamo un altro Sì dai Forti Non ce l'ho Non ce l'ho Forti Sono tutti delle pippe Allora Io adesso uccido un po' di minion Questa Ah ma Ma dà la vita questa qua La mia ulti Sì Non mi piace questo Non mi piace Cosa? Fini la partita No 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 Andiamo andiamo Intanto finiamo questa parte qua Che tanto sto a far video Oh 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 Cori corri Sì 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 Oh cacchio Non andiamo indietro Che è serio E dai dai Se mi arriva l'ulti Agito subito Secondo 20 secondi Ma ce l'hai sta ulti te? 18 secondi Ok Clicca 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 Oh sono già lotto Questi barboni Io uso la mia ulti Ma non si cura Ma non si cura Cosa? Cos'è sta cosa? Spamma spamma Io spammo Ma non vuol dire Non so cos'è Spera ti do un po' di vita Ok Dai fra 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 Lo uccido? Sì vai vai E' ignofo Torna indietro dai Torna indietro? Sì Sì non son passato dalla torre Oh minion Oh mi sta togliendo più la vita Sto minion qua Stupido minion Se io me lo pupì tutto Tipo posso usare la mossa Cos'è sta qua? Vabbè Dai raga Come crispo è Ti conviene recolare che c'hai poca vita Torre 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 Vai 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 Questa è fatta Torre è fatta Ok Vengo? Ok Spammo? Spammo un po' Sì vai vai Torna indietro dai Aspetta spera spera Uccido Oh cacchio Ti salvo la vita Non ti ho salvato la vita Oh cavolo cacchio Cacchio Del cacchio Di strafacchio Eh? Sì dopo ne facciamo un'altra Perché No Un bel pone Facciamo perché Vieni? Vieni comprare delle posizioni Che cos'è ma cosa Ma cosa succede qua? Cos'è? Oh fra ma ogni tanto si ringoglionisce qua lol Lel Amica Jim Ascoltami un po' Non devi fare la Inutile donna Che non fa Chi è sta cerchia Sì e vieni Dove vai? Un attimo a darla Non in top Ah perché vai in top? Vabbè Chi se ne frega Oh corri corri Oh c'è quella al 10 Io sono ancora all'8 Vabbè Io intanto sto qua Nell'imboschetta No? Quando state voi Nell'imboschetta Dovete mettere Il lumino E poi li pigli Nel deretà Oh vieni qua Che stanno Ci stanno facendo torre Fra Fra Ci stanno a fare torre Io vado Usso l'ulti Perché Perché posso? Oh cacchio Non posso più Ah ma va più veloce Io non ho capito Questa ulti A cosa serve Ok Dai dai Daie 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 Punta Tua madre Assunta Non era così Oh cacchio Cori 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 Io sono quasi morto Mi conviene Recolla No c'è ancora al mana Ah no aspetta Io c'ho queste qua Che non le uso quasi mai Ah ma io mi son pigliato Tutto quasi mana Che palle Che cacchio Il mana ce l'ho da vendere Sì abbiamo capito L'occhio tuo Che bello Eh Ha spenta Ha spenta Ma cosa serve Questo qua Ah ma ti da solo 100 Ma che schifo Che fa questa Fa proprio schifo Oh cacchio Via 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 Allora è giornale che è sempre più Io non ce lo facciamo Ora Bisogna ci sono Daie Sono la prima torre C'ho un cavolo di vita C'ho Sei sotto torre Mi è cosa Sei sotto torre Sei là bravo Di dietro Occhio per occhio E dai Ma dici Sembra le stesse cose Vai fra Contra che attrachiamo Alla battere No Vai avanti tu Oh cavolo E dai No 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 Ok Giopizzi Giopizzi No Giopizzi Dai io Recollo No no aspetta C'ho la vita Esti cazzi Allora Sono di nuovo a 300 Ok Il dottore l'ha pigliata Che Dove Grazie Allora adesso sono 600 Tipo No 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 Ok No io quasi No corri 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 Non ho accorso Le donne sono inutili Ciao Silvio Perché saluto Silvio Arrivo arrivo Stiamo perdendo 13 a dispari Cos'è sto dispari Raga sta a fine La seconda parte Di lel Loll Rex Cosa sto dicendo Ecco Mancano 10 secondi Alla fine Perché io mi devo Cambiare stop Praticamente Questa è finita E vi saluto Ciao raga